Ora le stanno mangiando la memoria, ogni morso ha un ricordo. Salve ragazzi, benvenuti nel canale Alienology, io sono Ali e quest'oggi sono qui per parlarvi di un nuovo fumetto, un fumetto che in realtà, se mi seguite, avete seguito uno dei video che ho fatto ultimamente sui recuperi che ho fatto in fumetteria, quindi per quanto riguarda l'usato, ricorderete che io ho acquistato dei vecchi almanacchi della paura di Dylan Dogg, ma anche un nuovo fumetto, un fumetto uscito a fine anni 90, un fumetto non Bonelli, ma della Universo Pubblicità, Universo Fumetto, uscito esattamente il numero 1 nel dicembre del 1995 e sto parlando di ESP, eccolo qui. ESP è stata una miniserie composta da 18 numeri, io sono riuscito a trovare i primi quattro numeri nell'usato in fumetteria e li avevo presentati appunto in quel video, ma soprattutto volevo portare sul canale almeno il numero 1 per, insomma, incutere un po' di... c'è più incutere. Per instillare un po' di curiosità in voi, il numero 1 l'ho letto appena finito di leggerlo e vorrei parlarvene un po' qui sul canale, questo fumetto ESP, che è un fumetto serie personaggi creati da Michelangelo Laneve, come detto nel precedente video, un autore prettamente di Martin Mister, mi sa che comunque ha sceneggiato un bel po' di numeri di Martin Mister, ma anche due numeri dei vecchi Dylan Dogg, il numero 99 della serie regolare Sinfonia Mortale. È il numero 104 Notte senza fine e, insomma, questa serie è stata creata da Michelangelo Laneve, il numero 1 è uscito nel dicembre 1995. Ragazzi, scusate la qualità video oggi, ma ho avuto un po' di problemi con ciò che registro di solito, per cui oggi sto registrando con la webcam del mio PC portatile. Ragazzi, un po' di pazienza, l'importante è che si capisce più o meno quello che voglio dirvi e vi sto portando questo contenuto, devo avviare a questo problema che ho avuto, vabbè. Comunque, il giardino delle anime, supervisione, soggetto e sceneggiatura Michelangelo Laneve, disegni Giancarlo Caracuzzo, copertina Marco Soldi, colori, effetti speciali e grafica Paolo Altibrandi. ESP era un mensile dell'Universo Pubblicità SRL. Allora, partiamo subito dalla copertina di Marco Soldi, con colori, effetti speciali e grafica di Paolo Altibrandi. Allora, la copertina è molto, devo dire, carina anche per un fumetto di fine anni 90. Vediamo qui il logo ESP, scritta bianca su sfondo arancio. Questa ragazza che sarà la protagonista di questa serie, di questo numero, che si chiama bianca, che in questo mondo fantastico, insomma, questo mondo alternativo deve affrontare un mostro. Ve lo dico subito, ragazzi, questo è più che altro un fumetto fantasy horror, da quel che ho capito. In quarta ricopertina c'è il mangianime che ha gli occhi cuciti. Questo è il grande villain di ESP, almeno di questo numero uno, il giardino delle anime. Guardate il bollino del prezzo, qui 3.000 lire, ragazzi, parliamo di fine anni 90, dicembre 95. Qui è come si presenta con il frontespizio. Kendra aveva lunghi capelli bianchi, e poi vedremo chi è, chi sarà questa Kendra. Insomma, poi ovviamente c'è anche il Zoobox in cui si parla di questa nuova pubblicazione di ESP che uscì appunto a fine anni 90 e insomma c'erano molte aspettative per questo fumetto. Io non lo conoscevo, se devo essere sincero, non conoscevo assolutamente questo ESP. L'ho visto, i primi quattro numeri ho voluto acquistarli a prezzi risori nell'usato e devo dire che sinceramente la lettura mi è piaciuta, ragazzi. E ora vi dirò perché. Allora, i disegni sono di Giancarlo Caracuzzo, un disegnatore che già avevo sentito, un disegnatore che sa il fatto suo, infatti i suoi disegni, vi faccio vedere un po', sono anche abbastanza belli, particolari insomma anche dei personaggi, primi piani, anche un po' di splatter. Insomma, Caracuzzo ha fatto il suo bel lavoro per un fumetto in bianco e nero, alla fine anche la caratterizzazione dei personaggi, ecco qui, che questa è Bianca, che è la protagonista di questa storia. Il giardino delle anime, ragazzi, allora praticamente lontano dalla luce, lontano dalla vita. Inizia così la storia, senza spoilerarvi troppo, insomma, perché se siete incuriositi poi magari lo potete trovare nei mercatini, comunque nell'usato, inizia in questo mondo alternativo, in cui c'è questa, questo mangianime praticamente, questo capo di questo mondo qui, e c'è questa ragazza, questa ragazzina che si chiama Gena, e praticamente poi appaiono Bianca insieme a questa ragazza bionda che si chiama Kendra, eccola qui, che cerca di accompagnarla e praticamente in questo posto cancellano i ricordi. Allora Bianca viene da una, insomma, da una storia con il suo ragazzo in cui si è lasciata, lei sta ancora male, chiede aiuto a questa ragazza Kendra, ma commette un grande errore, nel senso che Kendra, qui infatti vediamo Bianca con il suo ragazzo, Kendra commetterà un grande errore perché porterà Bianca in questo mondo in cui non possono esserci dei vivi, ma possono esserci soltanto gli abitanti di questo mondo alternativo che sono anche dei morti. Quindi praticamente non si rubano i ricordi alla morte. Dicono qui, infatti, Bianca poi tenta di scappare, Kendra verrà, come dire, per le leggi di quel mondo lì, di questo mondo alternativo, Kendra verrà condannata, le taglieranno i capelli, le toglieranno i ricordi, ci saranno anche delle pulci, le sacre pulci che entreranno nel suo corpo, nella sua, cioè vabbè, è un po' schifoso da dire, entreranno dal naso, poi arriveranno al cervello e elimineranno tutti i ricordi di Kendra, solo perché Kendra aveva fatto entrare in quel mondo Bianca. Bianca riesce ad uscire da quel mondo e a rientrare nella realtà, dove ci sarà una situazione analoga con un'altra ragazza sedicenne di nome Miriana, che è fidanzata con lo suo ragazzo Luca e poi succederanno, succederanno delle cose, insomma, non vi vado a dire tutto quello che succederà, ma succederà qualcosa anche a Miriana con questo ragazzo Luca e di lì a poco, vabbè, sarà molto importante il fatto che questo giardino delle anime, questo mondo alternativo entrerà sempre in scena. La cosa importante da dire di questa storia è che è ambientata anche in Italia, ambientata a Roma, volevo far vedere un po' di tavole qui con questo mostro, insomma, poi Bianca tenterà di andare di nuovo in questo mondo alternativo, di scoprire un po' per aiutare la sua amica Kendra, che, insomma, era stata trattata male da quel mondo alternativo solo perché aveva portato la sua amica in quel mondo lì e non si poteva. Il mangianime, come vediamo qui, è un mostro con gli occhi cuciti, praticamente il capo di quel mondo alternativo. Devo dire, ragazzi, che è un fantasy horror che però ha come tema l'amore, perché alla fine, se ci pensiamo, Bianca voleva dimenticare il suo amore e voleva cancellare i suoi ricordi ed è entrata in questo mondo, insomma, questo mondo fantastico alternativo, chiedendo aiuto a questa sua amica Kendra che poi, ovviamente non vi dico come va a finire, ci sarà un risvolto inaspettato e anche sorprendente, però devo dire che 98 pagine, ragazzi, sono volate via con facilità, nel senso che è una lettura piacevole, scorrevole. A questo punto mi dispiace soltanto che ho recuperato solo i primi quattro numeri, perché il primo numero, il numero uno, questo qui, il Giardino delle Anime, mi è piaciuto e cercherò di recuperarli tutti, perché 18 numeri per questa miniserie. Devo dire che è una serie, cioè almeno questo numero uno, questo Giardino delle Anime, a me sinceramente è piaciuto. Michelangelo una neve, tra l'altro non è un novellino, come detto, scritto per Martin Mister, per Dylan Dog, insomma, i disegni di Caracuzzo ne condiscono tutto al meglio, la copertina di Mercosoldi, Paolo Altibrandi, insomma, autori che poi, ovviamente qui magari erano agli esordi e poi hanno preso altre strade, però questo ESP io non lo conoscevo, ragazzi, fa sempre bene iniziare a leggere qualcosa di nuovo. Poi in questo periodo sono veramente, sono molto indirizzato verso curiosare e conoscere nuovi fumetti, più che altro leggere nuovi fumetti, come mi è capitato con Net & Never, che lo conoscevo ovviamente, ma non l'avevo mai letto, questo invece non lo conoscevo, l'ho letto, però questo, ragazzi, mi è piaciuto, io mi sento di consigliarlo, se riuscite a trovarlo nell'usato, in fumetteria o in mercatini, insomma, ragazzi, questo ESP si è rivelato essere almeno il numero 1, un bel numero. Ora continuo a leggere, continuo a leggere gli altri tre numeri che ho, fatemi sapere se, insomma, cosa ne pensate di questo ESP, le vostre curiosità, se volete che porti anche il numero 2 qui sul canale, e niente, ragazzi, questo video dedicato al numero 1 di ESP, Il Giardino delle Anime, termina qui. Io, come al solito, vi ringrazio per tutto il supporto, per, insomma, per il fatto che mi seguite un bel po', siete un bel po' di persone ormai che mi seguite e avete fiducia in me, insomma, vi piacciono i miei contenuti, scusate, come detto, per la qualità oggi video un po' scadente, ma devo ovviare, portare comunque lo stesso contenuti, perché io senza fare video non ci so stare. Se volete entrare nel gruppo Telegram Alienology Nerd360, link in descrizione, ragazzi, non mi resta altro che dirvi ancora grazie, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao!